Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Nicolò Iaquinta che mi chiede di parlare del film del 2002, esordio di Eli Roth dietro la macchina da presa Cabin Fever massacrato dalla critica, distrutto da tutti, una stella da tutte le parti quando secondo me invece un horror di mortone bomba questo Cabin Fever che vive in realtà di grottescoli, surreale, non è un caso che nel mezzo ci sia anche David Lynch che viene comunque ringraziato alla fine perché sembra abbia aiutato a trovare i finanziamenti insomma per questa storia scritta da Eli Roth, diretta dallo stesso Eli Roth scritta col compagno di università Randy Perlstan con le musiche di Angelo Badalamenti è un film classico in un certo senso che ha mescolato a Boo per George Romero, Wes Craven il cinema diciamo così pre-apocalittico, il cinema modello la casa con il cinema che quasi ripena revenge insomma i personaggi come sapete si vendicano o addirittura roba a modello un tranquillo weekend di paura perché la storia è quella di cinque amici praticamente, la storia più semplice del mondo è quella della casa che affittano cottage di campagna per andarli praticamente a ribottare e fare i cazzi loro quando arrivano lì chiaramente c'è la coppia, l'altra coppia, poi c'è l'incomodo, il classico gruppetto e il film però ripeto è già grottesco e surreale per come mette in scena questi personaggi sembra quasi una parodia del film di infezione e questo secondo me è veramente voluto per l'ironia di fondo visto che i personaggi sono praticamente una massa di sceme uno dopo l'altro e poi naturalmente questi vanno nel bosco una sega e un altro noi abbiamo visto un incipit con un cane che mangia un cadavere che porterà probabilmente questo cazzo di virus ma in un certo punto praticamente un uomo alla porta rompe i coglioni uno di questi che li spara e questo qui il putrefatto scappa poi in realtà ritorna e attacca questo virus questa malattia che incomincia a far perdere i pezzi a tutti fino al catastrofico finale ora sicuramente non siamo di monti al capolavoro del cinema Harry Potter non è un genio del cinema, ha del bel talento ma non è un grande regista però questo film è veramente una bombetta per chi come me ama il super gore, la commedia, la demenzialità che è voluta all'interno del film non è stato assolutamente capito dai critici che hanno visto troppo serietà dentro un film che in realtà vuole essere in un certo senso anche divertente e c'è comicità in quella distruzione del corpo ed anche una certa forza, insomma una voglia di creare un certo tipo di cinema che viene appunto da Sembremi, che viene da Romero, Tobu per Wes Craven ma anche da Fulci, ma anche da Dario Argento, ma anche dal cinema italiano addirittura degli squarci di fotografia alla Mario Bava fotografia tra l'altro bellissima, di Scott Kevan che riesce a costruire benissimo gli ambienti sono ottime costruzione di fotografie, poi sono bello anche l'Irot che fanno parte di quei due che vogliono vendergli la marijuana, insomma un film che funziona secondo il sottoscritto funziona perché la tensione riesce a esistere, c'è un gore veramente bomba lo splatter funziona, gli effetti speciali sono fatti benissimo il montaggio di Ryan Fosley aiuta perché comunque il ritmo è sempre più elevato e ripeto, i dialoghi sono volutamente cacciaroni, sono volutamente stolti perché questi sono degli stolti e il film sembra quasi voler omaggiare quel tipo di cinema però smontandolo un minimo e riportandolo a un certo tipo di ironia appunto nei primi anni 2000 che era di nuovo in voga e che soprattutto dava la possibilità a questi registri di poter uscire anche con un film così violento perché veniva criticato un pochino meno dalla censura e portato un po' più giù non è caso che la versione cinematografica americana è di 88 minuti la director scatta 10 minuti di più di vera violenza e crudeltà ma la crudeltà è anche quella tra i personaggi che partono in un modo e cominciano a essere sempre più stronzi l'uno con l'altro quindi è un piccolo affresco anche sulla gioventù americana stolta, arretrata, completamente violenta e senza quasi orgoglio questo racconta questo piccolo film Cabin Fever che è diventato un cult assoluto poi ci ha fatto Cabin Fever 2 il contagio Ty West che forse è meglio anche di questo poi c'è Cabin Fever Pazia in Zero del 2014 che sinceramente non ho mai visto interessante proprio perché i personaggi sono completamente idioti e rendono tutto ciò che c'è intorno molto più in primo piano ecco e questa è una cosa particolare in realtà di quasi tutto il cinema di Eli Roth che riesce a spostarsi da questa knock knock di Green Inferno detto questo, questo Cabin Fever secondo me è un buon esempio di horror indipendente con dei begli effetti ben prodotto, recitato un po' alla cazzo di cannaver a tutti i ragazzi giovani e comunque i personaggi sono sopra le righe e sono dei topoi puri l'idea appunto di Eli Roth è quella di smontare un certo tipo di cinema che ha sempre amato attraverso una visione molto più moderna e quindi boh se poi in un certo senso ha funzionato o no sta a voi anche l'ultima parola perché di sicuro Cabin Fever non è un capolavoro quindi come tutti i film non capolavori e non monnezze totali possono essere criticati da ognuno in maniera ben diversa e io lo reputo un buon film, me lo guardo sempre volentieri ho il mio bel DVD e reputo insomma Cabin Fever un horror di quelli che nonostante non inventi nulla in un certo senso al suo interno cerca di reinventare qualcosa per i tempi moderni attraverso un cinema stantio che però visto in questa maniera grottesca e diciamo così ilare a tratti diventa in realtà di nuovo abbastanza nuovo quindi il link è qua sotto, donatevi su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, campanile super grazie per donare qui direttamente su YouTube se no come ho detto Patreon seguitemi su Facebook e su Instagram per vedere tutto quello che faccio a giro per l'Italia e insomma questo Cabin Fever chi ama l'horror splatter gore super violento probabilmente ce l'ha già, chi non ce l'ha provi a dargli un'occhiata qui vabbè è